Qua c'è un'antenna Ma ci sono i robottini Si sparano Sono Sono robottini il PD Aia Sono I robottini della casta Meno male abbiamo fatti fuori Io comunque Comincio a essere accorto di munizioni Questo Potrebbe essere un problema Qui cosa c'è Un appunto Senti So che vuoi il gusto di questo Con il detto opposto Ho capito Fare la valigia Abbandonare Ah ok All'ombra Prendiamo Cos'è C'è l'industria All right Cos'è questo appunto Ci sono delle industrie Comunque Comunque cosa c'è Oh cavolo C'è tanta gente qui Amido vegetale Amido vegetale Ammazzati tanti Non so Porchetta Accolgo Accolgo Astro Attenzione Vi vedono altri Mità Inferazioni Un po' brutte Un po' brutte Uso uno Stipac Va Perchè c'era tutta questa gente qua Qua E non metto nulla E non metto nulla Perché c'è una barca a queste parti È lunga è davvero tanto lunga tutta questa strada ma sono nascosto da chi non ho capito ma va bene qua ci sono delle navi che forse prima ci fosse un fiume non saprei vedo delle navi questo tutto questo potrebbe avere anche la conformazione di un fiume oh chi è che mi spara chi è che spara le cose non sparano controllo un attimo posso verificare se ci possa essere qualcosa di utile salito di stick un mini pennello il porto bencher va bene aspetta che ho visto qualcuno è uno scorched quello dov'è affrontare uh che ti spara però ecco lo so che ho troppo peso e cerco un po' su dove poter smaltire certo questa roba certo potrei anche certo che potrei anche spostare qua tutto il mio accampamento non sarebbe una cattiva idea e allora facciamolo spostiamo qua il camp avanti secondo me qua è meglio abbiamo tutte quelle case possiamo i forniti tutte le cose ah ce l'ho fatta bene questo aspetto io la torretta io le torrette le farei allora facciamo io la torretta ne apri due una qua e facciamo una qua a quest'altro lato ok ah già mi ha invitato qualcuno a chi spari va bene ora devo un attimo fare una cosa devo devo riciclare un po' di oggetti ok allora questa è la pistola da riciclo perché tanto ho quella automatica bottiglie di birra direi che è di ciclo poi cosa lo stinger torace e la fredone non penso a vedere molto altro perché tutto c'è fucile alla caccia e riciclo anche questo avanti ok ho sparato ho noto se quale le torrette si attivano molto di più io bene intanto provo a dire se qua c'è qualcosa old possum tuttia di birra cosa sono archioni e li prendiamo va bene tornello ma qua si può creare allora facciamo una cosa carne bevande possiamo fare ecco uno acqua bollita che almeno va meglio poi per quanto riguarda le carni allora carne di oppossum bosca immutante al forno e beh la carne di oppossum facciamola va bene e anche però basta basta perché il legno legno può servire basta così fatto io non so che cosa aspetta ci sono ancora archioni e prendiamoli va bene c'è una porta si apre no e allora ok ok il tiario braccio sinistro ancora allora allora io ho aumentato braccio sinistro e poi intanto poi non lo faccio gamba sinistra gamba sinistra in legno bene è una sola sentinela risvolto positivo cos'è è una cosa ah io non lo so quale c'ho il torace in cuoio ha 10 e 4 è molto positivo 6 e 15 4 e 10 è molto positivo il torace in cuoio 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 braccio sinistro come ce l'ho questo è 2 4 braccio sinistro cuoio mio 3 3 7 questo la cacciatore ok e allora e allora ricicliamo via allora riciclo questo poi provo di vedere questo come munizioni cosa vogliono 308 308 forse lo vuole pure il fucile e la caccia e allora 45 di danno questo volta artigianale mi sa che il bordo artigianale lo ok poi tanto abbiamo fucili la caccia poi gli diamo allora monta la caccia il torace da predone e anche quello in cuoio mi sa che che abbiamo finito va bene così e oggi possiamo creare qualche cosa munizioni che ci servirebbero onestamente allora munizioni posso creare la polvere da sparo ma si e creiamo povera sparo che questa ok però munizioni non ho non posso creare munizioni qui va bene magari no non posso mancano dominio va bene mi sa che è il momento di andare care torrette sta a voi sta a voi difendere la casa del ministro e ora andiamo qua ci sono delle case questa è sprangata magari in queste parti si può trovare qualcosa di utile forse no messaggio prioritario per i soccorretori si richiede evacuazione immediata della chiesa dei primi amici di charleston a causa di una violenta infestazione scavare in questa zona permette di recuperare risorse a patto di essere ben equipaggiati per il compito i civili non devono avvicinarsi quando suonano le campane scusi io onestamente avrei già da fare però ok guardi se capita va bene do un'occhiata io dico però non le garantisco nulla allora vediamo se cappettiere tazzina cappè no rovinaccio detergente grazie sento parlare sento gente che non parla tra l'altro molto articolato bene io prenderei tutte queste cose mi sa sa che è meglio guardarsi bene attorno qua non la vedo bene chi che mi spara non è detto neanche che spari a me orecchie sentono cose strane aspetto non so che cosa fa ok non male l'abbiamo tazza caffè pulita sono pulita Roberto Charles qua ballano forse nastro americano combattere finalmente dov'è chi che dice combatte finalmente ma chi tra l'altro qualcosa di molto radioattivo guarda che cosa hanno costruito sta roba strana che vuoi da me facciamo una cosa io direi che torno un'altra volta magari vedo organizzarmi un po' meglio e torno un'altra volta e vedo vedo che la situazione monete le migliori ecco va bene tornati a casa ma clicchiamo i soggetti un po' ok non riesco a dire cosa non devo fare va bene va bene e quella città fina di misteri di pericoli ma fina poi andrà affrontata